Qui con coach Ghizinardi della Paffonio Megna, dopo una sconfitta che è maturata contro la Fiorentina Basket, a causa anche un po' di Sirachov che si è scatenato nel terzo quarto, però cosa secondo te non ha funzionato per il tuo roster? Anche forse guardando il tiro da tre punti che non erano neanche cattivi tiri ma poi non sono entrati. Sì è vero, purtroppo c'è un momento mentale difficile perché siamo stati bravi a sopperire a tutte le nostre mancanze, sciagure, infortuni, però sai puoi sopperire nel breve periodo quando le assenze così importanti tutte assieme prolungate siamo incapati in due o tre sconfitte che ci stavano sulla carta, però questo ha nominato la fiducia e lo si vede nella percentuale del tiro a tre punti, nella percentuale del tiro a tre liberi che oggi è 10 su 16 ed è un successone perché nelle ultime prove sono stati al di sotto del 50%, per cui sì, manca essenzialmente un po' di fiducia, un po' di voglia di aiutarsi. E' negabile che insomma quando si è abituato abbiamo fatto una striscia di nove vittorie e dopo queste sconfitte pesanti hanno lasciato il segno. Ecco invece per il futuro su cosa c'è quindi da lavorare? Guardando magari anche a Moncalieri che potrebbe fare un piccolo allungo e con Empoli che è un po' le Alcagna. Sì, no ma ho sempre detto che il problema non è la classifica, io sono sicuro che quando saremo tutti a posto e anche se non saremo tutti a posto però avremo più fiducia possiamo battere chiunque in casa, fuori casa. Paradossalmente nelle ultime sei partite di campionato ne abbiamo vinte una, in casa con Moncalieri senza Simoncelli, Gurini e Corral. Detto ciò è l'ultimo dei problemi nella classifica. E' chiaro che bisogna ritrovare al più presto tutti i componenti perché poi sapete bene che bisogna ricostruire un certo tipo di squadra, un certo tipo di spaziature, un certo tipo di responsabilità. In una squadra di palacanestro non si inventa nulla per cui dobbiamo cercare in vista del playoff di riassettarci. Grazie a tutti.